ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale poco tempo fa avevo caricato un video su youtube dove vi mostravo dei materiali ricevuti per una nuova collaborazione dal sito cobeats poi nell'info box vi lascerò il link che vi rimanderà questo video ed oggi farò un tutorial proprio in collaborazione con cobeats vi faccio vedere subito di cosa si tratta allora realizzeremo insieme il gemello di questo orecchino ma con lo stesso procedimento si può realizzare anche questo braccialetto che è davvero molto delicato dimostra anche come sta al polso secondo me è possibile anche indossarlo davvero tutti i giorni perché deve essere comodo non è neanche ingombrante e quindi faremo insieme il gemello ma poi se voi continuate con la lavorazione potrete realizzare anche questo braccialetto quindi diciamo è questo tutorial è un due in uno adesso vi dirò subito i materiali che ci occorrono per poter realizzare sia l'orecchino che eventualmente il bracciale e ci mettiamo subito al lavoro allora ci serviranno delle rocai miyuki 11 0 questo tipo di chiodini a testa rotonda due copri perla poi utilizzerò queste perle da 8 mm che trovate sul sito questo è il codice però per comodità io per ogni prodotto di cobeats che vi mostro vi lascerò il link così lo trovate più facilmente poi questi cipollotti o rondelle 4x3 questi bellissimi perni in acciaio poi ci serviranno anche delle super duo poi delle pinze ago e filo farline da 12 quindi sistemo tutto e ci mettiamo subito al lavoro come prima cosa inseriamo sul nostro filo un cipollotto e 6 rocai dopo di che entriamo dal lato opposto dello stesso cipollotto solo nel cipollotto fino a che si viene a formare questo cerchio porto giù e una volta usciti da qui inseriamo tre rocai una super duo tre rocai una super duo ed altre tre rocai in questo modo e ci andiamo ad inserire nel foro dal lato opposto dello stesso cipollotto in questo modo non vi preoccupate per il filo che sta qui in eccesso perché adesso ci arriveremo ripercorriamo tutte e tre le rocai il foro basso della super duo ed anche queste altre tre rocai inseriamo inseriamo una rocai e ripassiamo per tutte le rocai che si trovano al di sopra del cipollotto una volta uscite una volta usciti da tutte e sei queste rocai facciamo come abbiamo fatto all'altro lato ovvero inseriamo una rocai e ci andiamo ad inserire in tutte e tre queste rocai e adesso ripassando per la lavorazione possiamo andare a tagliare il filo in eccesso una volta tagliato il filo in eccesso usciamo da una fila di rocai o da questo lato da questo lato entriamo nel foro basso della super duo e dopo nella stessa super duo nel foro alto senza inserire nulla dopodiché inseriamo tre rocai un cipollotto e altre tre rocai tre rocai un cipollotto e tre rocai e ci andiamo ad inserire nella stessa super duo ma dal lato opposto dal quale stiamo uscendo in questo modo e tiriamo dopo di che ripassiamo sia nelle tre rocai nel cipollotto ed anche in queste altre tre rocai prendiamo due rocai e ci andiamo ad inserire nelle successive tre rocai subito dopo e poi entriamo nel cipollotto e ci andiamo ad inserire in queste tre rocai fino ad uscire poi da dove c'è lo spazio vuoto e come dall'altro lato dobbiamo inserire due rocai e ci andiamo ad inserire in tutte e tre queste rocai e tiriamo una volta usciti da queste rocai ci inseriamo nel cipollotto dopo di che dobbiamo inserire tre rocai scusate ma mi scappano scusate ma mi scappano una super duo ed altre tre rocai tre rocai una super duo e tre rocai e ci andiamo ad inserire nel cipollotto ma dal lato opposto in questo modo ripercorriamo le rocai il foro basso della super duo e poi queste tre rocai dopo di che siccome qua lo spazio è di meno rispetto a quello sotto rispetto qui a dove c'è la super duo dobbiamo inserire soltanto una rocai e dobbiamo inserirci in tutte e tre queste rocai dopo di che per passare dall'altro lato entriamo in questo foro della super duo e poi in queste tre rocai e così prendiamo una rocai e ci andiamo ad inserire in tutte e tre queste rocai in questo modo adesso entriamo solo nel foro basso della super duo e poi come abbiamo fatto giù anche nel foro alto senza inserire niente una volta usciti da qui dobbiamo fare in questo caso l'ultimo passaggio altrimenti se volete continuare per fare il bracciale dovete continuare a fare questa lavorazione alternare cipollotti e super duo quindi tre rocai un cipollotto un cipollotto ed altre tre rocai e ci andiamo ad inserire nella stessa super duo ma dall'altro lato dopo di che ripassiamo come abbiamo fatto giù sia nelle tre rocai nel cipollotto e in queste tre rocai e siccome qui come potete vedere c'è più spazio inseriamo due rocai e ci andiamo ad inserire nelle tre successive dopo di che entriamo nel cipollotto scusate ma adesso non mette bene a fuoco entriamo entriamo in queste tre rocai prendiamo altre due rocai e ci andiamo ad inserire in queste tre adesso siccome l'orecchino è finito lo chiudiamo e in questo modo dovremmo fare anche con il bracciale entriamo nel cipollotto inseriamo sei rocai come abbiamo fatto all'inizio quattro cinque e sei entriamo dall'altro lato del cipollotto poi ripassiamo in tutte e sei le rocai che abbiamo appena inserito e dove c'è quel piccolo spazietto inseriamo una sola rocai ci andiamo ad inserire in queste tre rocai entriamo in questo foro della superduo saliamo da queste tre rocai ed inseriamo l'ultima rocai ecco qui e questa parte dell'orecchino è terminata ovviamente e come avete potuto vedere già nel frattempo che allungavamo questo lavoro già ripassavamo all'interno della lavorazione però qualora voi vogliate essere più sicure potete nuovamente ripassarci quindi io vi ripeto per la creazione del braccialetto basta seguire lo stesso procedimento perché è praticamente lo stesso dall'inizio alla fine poi una volta terminato questo prendiamo il nostro chiodino e inseriamo un copriperla la perla ed un altro copriperla prendiamo la pinza tagliamo la parte del chiodino in eccesso dopo di che prendiamo quest'altra pinza lo pieghiamo un po' prendiamo il nostro perlo e lo inseriamo e lo chiudiamo una volta chiuso apriamo anche sotto per poter inserire la parte dell'orecchino in questo modo chiudiamo e il lavoro è terminato io mi auguro che questo progetto vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate ve li faccio vedere entrambi insieme sono diciamo un po' diversi da solito pendenti e poi vi faccio rivedere anche il bracciale quindi fatemi sapere cosa ne pensate io al momento vi saluto ricordandovi che troverete tutte le informazioni utili nell'info box e grazie a CoBiz per questa opportunità alla prossima ciao a tutti